E' importante, aprirci agli altri e donarci all'ascolto. E' fondamentale oggi più che mai donarci all'ascolto, questa è una bella espressione che hai usato, perché mentre sembra che noi ci doniamo all'ascolto, in verità ci stiamo facendo un gran regalo, perché io credo che solo chi riesce a dire davvero tu, può dire davvero io, se dire io significa sono questa persona nel mondo, ho queste paure, ho questo coraggio, perché poi le nostre paure e il nostro coraggio hanno sempre a che fare con gli altri esseri umani. E' sempre bello tornare in Puglia, a Biceglie, alle vecchie segherie mostrate. Io amo questo posto, io amo le vecchie segherie, non è un segreto, è un posto che nel momento in cui abbiamo riaperto dopo il lockdown, fu chiesto da Vanity Ferra a una serie di giornalisti di raccontare in un numero speciale col Presidente Mattarella in copertina perché era bella l'Italia, perché non vedevano l'ora che riaprisse il loro paese, io scrissi perché non vedo l'ora di ritornare alle vecchie segherie. Grazie a tutti.